La CISL innanzitutto farà sciopero dei suoi lavoratori e delle lavoratrici della scuola e della pubblica amministrazione per un motivo molto preciso. È sei anni che questi lavoratori non hanno il rinnovo del contratto. Mediamente hanno perso in questi sei anni, tra un po' arriveremo al settimo, dai 2.500 ai 4.000 euro ed è una cosa davvero ormai insopportabile per ognuno di loro. In più noi faremo tre grandi mobilitazioni, tre grandi incontri con i nostri delegati e le nostre delegate, una a Milano, una a Firenze e una a Napoli, per discutere insieme a loro la posizione della CISL sul job act, sulla finanziaria, ma soprattutto le nostre proposte sul fisco, su una riforma della Previdenza che ormai non è più procrastinabile e cosa secondo noi bisogna fare per far ripartire lo sviluppo e l'occupazione nel Paese.